Siamo qui al Festival Internazionale del Giornalismo al Hotel Brufani con Sara Varetto, direttrice di Sky TG24, che è venuta a presentare il nuovo progetto di Sky con Vice Italia, che andrà in onda dal 4 maggio ogni domenica alle 23. Come nasce l'idea di questa collaborazione con Vice? Nasce da una scoperta, una scoperta di questo gruppo di ragazzi talentuosi che hanno creato un nuovo modo di raccontare l'attualità, o meglio tutto ciò che è estremo nel mondo moderno e lo fanno dal di dentro calandosi in quelle realtà complesse da raccontare, ovviamente affrontando anche un punto di vista che può sembrare in alcuni modi parziale perché devono entrare dentro delle realtà complicate e poi anche l'accuratezza e la ricerca per quanto riguarda l'immagine, la qualità della fotografia che lo rende un prodotto quasi cinematografico. Questi sono tra gli aspetti che ci hanno affascinato di più e che ci hanno portato a scegliere Vice o Sky TG24. Vice nasce nel 94 come magazine ma realmente nel 2002 entra nel mondo di internet. Il loro motto quando fanno i loro reportage contenuti è descrivere le cose stupide in modo intelligente e descrivere le cose intelligenti in modo stupido. I servizi che sono scelti da Sky TG24 ogni domenica alle 23 saranno calibrati rispetto al pubblico di questo TG All News, il più importante, oppure saranno proprio tutti quelli che sono dentro Vice e Vice Italia? In realtà noi vogliamo sfidarlo un po' al nostro pubblico, offrendo un prodotto che è completamente diverso da quello usuale e poi ci piaceva molto quello che è stato realizzato a livello internazionale, che quindi non soltanto per il web ma è già un prodotto, una serie di reportage pensati invece per la televisione con un linguaggio televisivo che punta moltissimo sulla qualità che viene proposta al telespettatore. Negli Stati Uniti sono stati trasmessi da quello che è uno dei network, possiamo dire, più aspirazionali, per usare una parola che va molto di moda adesso, che è quello di HBO. Un'ultima domanda, forse banale, però ci teniamo a farla. Lei è stata una delle prime direttrici di TG All News, forse l'unica o la seconda. Come riesce a coniugare una vita da mamma, da moglie e da direttrice dei forse più modati TG All News italiani? Con una famiglia paziente. Benissimo, ringraziamo Sara Varetto.